Eccoli, che belli veramente che sono diventati. Oggi la dottoressa di vaccino, fanno due mesi e qualcosina così. Ma piccolini, uno di loro ce l'ha la famiglia perché la mamma selvatica li ha porto lì in un giardino privato aperto e i condomini di fortuna li hanno tenuti, li hanno accuditi finché poi non è stato più perché non è che potevano rimanere tutti questi. Se invece taglia medio piccola, no? Media, diciamo media, media contenuta. E' preoccupante questa mole di cuccioli. Però se mi leccate e mi mordicchiate tutti insieme... Mamma mia, mamma mia! Lui è quello già adottato. Ah, ecco, ma che bello. E quando lo prendono? Adesso facciamo il vaccino, vediamo. Perché comunque se stanno qui non stavano bene. Mamma mia, mamma mia! Li sverminate anche, Barbara? Li sverminate anche? Sono tutti più migliori. Ah, li sverminate con quello. Devi far vaccinare chi l'ho fatto. No, li vedo bene. In caso poi ripetiamo lo stronghold. Tanto quanto lo stronghold... Sì, lo stronghold una volta al mese si mette. Quindi non è passato un mese. I 29 l'hanno fatto. A fine mese. Sono... Come è a scendere, ragazzi? Eh, quello lì. Quello con la macchina. È bellissimo. No, non hanno nemmeno una foto. È scura. Ok, noi andiamo. Mmm... Un owo...